21 chef rispondono a tre domande sulla cucina italiana. Il futuro della cucina italiana all'estero. Una grande sfida perché bisogna riniziare da zero. Per fare sistema Italia all'estero è fondamentale prima avere un sistema italiano in Italia e poi esportarlo. Noi dobbiamo esportare il verbo della buona cucina italiana. Il futuro della cucina italiana siamo noi cuochi se riusciamo a valorizzare il prodotto. La sfida sarà andare all'estero cuochi e cuochi italiani. Mettere insieme nei nostri piatti e nei nostri dolci il buono dell'Italia e farlo conoscere all'estero. E formare chi poi andrà ad utilizzare questi prodotti. Il passaggio deve essere forse culturale, deve essere etico. Aprirci per far capire quali siano le nostre ricchezze. In un modo concreto, razionale e puro così come la cucina italiana in sé. La cucina italiana ha ancora molto da dire fuori dal nostro paese. Ci sono i giocatori, ci sono gli allenatori, ci sono gli amministratori delegati di questa nuova squadra di calcio, di questa nuova nazionale. Tutto quello che è stato fatto fino adesso è nulla in confronto a quello che potremmo fare un domani. Il tuo piatto all'estero. Il piatto che porto all'estero, il piatto che mangio all'estero è pasta e pomodoro. Pasta fresca, pasta secca. A me piace la pasta fatta in casa. Spaghetti cotti al dente. Con una ricotta e con un cavolo nero. Una panzanella. La cosacca, una pizza ancora più tradizionale e storica della margherita. L'insalata piemontese. La delizia al limone. Un risotto alla milanese. Tiramisu. E l'uovo, perché è mio. E anche la ricotta e pera, perché no. Un risotto all'olio extravergine d'oliva. La mia idea di brodo italiano. Il legume e l'olio d'oliva. Con limoni e capperi di pantelleria. Pantelleria. Voi non lo sapete, ma la polenta all'estero ha molto successo. La margherita sbagliata. Piatto che porta all'estero il cuore italiano. Cucina italiana è? Cucina italiana è? La più buona. Qualità innanzitutto. Bellezza. Ricchezza e bontà. Eleganza. La cucina italiana è? Allevatori, agricoltori, produttori. Responsabilità sociale. La nostra cultura. Storia. Tradizione, arte. Stare insieme. È ospitalità, è benessere. È emozione. È amore, sensibilità e memoria. Biodiversità. È il simbolo dell'Italia. Sole e mare. È tutto quello che può far star bene l'uomo. È viva l'Italia. La divisa non ha ancora lavorato perché è pulita. Proviamo. Tanto sì, possiamo... Posso guardare il tè quando guardo un po' meno quello. Sì.